il cantautore ha commentato il video che la figlia ha pubblicato su tiktok in cui parla a chi la definisce brutta sui social ma nel quale soprattutto chiede scusa a se stessa ciao sono la figlia brutta con queste parole yolanda renga figlia di ambra angiolini e il cantante francesco ha iniziato il video che in poche ore è diventato virale e nel quale risponde a chi la chiamata brutta o non bella come i genitori una risposta più che esemplare agli haters detti anche leoni da tastiera che nascosti dietro agli schermi danno giudizi commentano senza pensare che quelle parole in una ragazza di soli 18 anni possono fare male molto male ma yolanda per loro ha speso pochi attimi e ha mostrato sempre un sorriso dolcissimo lei si è focalizzata sul chiedere scusa a se stessa per essere rimasta male leggendo quei commenti di aver dato retta ai giudizi di persone lontane da lei il mio sogno ha spiegato yolanda per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori il mio desiderio nella vita è fare cose che contano mi piacerebbe migliorare il mondo quindi sono felice di me stessa perché ogni giorno cerco di fare qualcosa dando il massimo poi si è rivolta a chi si sente come lei io vorrei dire a tutti quelli che si sentono come me che finché avranno cura e rispetto di se stessi e degli altri brilleranno sempre di una lue diversa le persone gentili sono belle per davvero non permettete agli altri di cambiare questa parte speciale e unica di voi anzi rendetela un punto di forza grazie a tutti